Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo prossimo video di Marvel, Spider-Man, Miles Morales Allora Che bello Oggi volevo Comprare questo costume Mi consumerà 10 gettoni attività e un componente Beh, che poi questo si chiama costume improvvisato Ma mi piace troppo questo Il classico Allora, io sto andando Ehm, qui Perché me ne darà uno Ma dato che c'è qui Uno di quelli In cui posso andare a prendere un componente Comunque no, non sto facendo una missione perché l'avevo già provata Ci vogliono 3 anni Poi perché devo sconfiggere l'ailo Ah, è l'underground Oh Underground Perché? Che cosa c'è? Ahah Oh l'ha preso Componenti Costumi Andiamo qui Eccolo Che punti Punti Che è il bello che lo fa anche quando cambio costume Aspettate Adesso metto questo guardate che bello aspettate adesso faccio spaventare questi due non vi spaventate che becchi camminata poi anche una corsa come corre comunque ragazzi per il costume animato mi servono 20 gettoni attività e 4 componenti per questo mi servono 12 gettoni attività e un componente per questo devo che bellissimo 14 gettoni attività due componenti adesso vado a prendere i componenti questo è bello ma scusatemi questo non è il più bello quindi adesso io vado a prendere ben due componenti bene 3 componenti qua mi da dalle capsule del tempo quindi magari riesco a sbloccarlo perché in questo momento io ho 4 gettoni me ne servono 14 14 ne ho 4 e due componenti me ne danno 3 quindi me ne avrò ancora uno intanto vado oh basta sto roxon che che non riescono a fermare l'elicottero bla 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 lo so già ok attività disponibili eccoci arrivati sai che cosa sia laboratorio roxon laboratorio roxon mettiamo a fare l'underground eccoci attiviamo il reatto uso il segnale del consiglio per accedere all'area la terra città vola adesso tocca all'altro è pure del mio colore la 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 che mi dici ho violato la sicurezza quei firewall fanno veramente bene da dove ho dovuto scendi le scale posso aprire la porta sentivi l'alimentazione dare energia la mia specialità porta c'è c'è vedi commutatori in giro si allora questo lo collego a questo manca poco è detto fatto intanto raccogliamo un componente ho visto un altro triangolo che cos'è che cos'è ci deve essere qualcosa che non tipo quella cosa lì no scusi ma sta solo più collegarlo lì agenti no però lì sotto si hanno barrato tutto porto sull'impatto ambientale ci avrete approssati abbiamo amici e forse la roccia sarà lì se ci vedete bene è sicuro sto sto stavate vai o sto ti vu ogni volta vai vai chi lo sta guardando va aha lui oh ma un secondo che mi chiami davvero dimmi dimmi è pronto scusa ragazzi io devo abbandonare la missione finisco la missione ok vola vai 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 ciao 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 ragazzi ahahahah salve salvino per l'arrivo al 100 e no che non lo sapete o forse si no a quanto pare no era sicuro quello tutto stealth health health è vita il bazooka è arrivato no no way ce l'ho rifatto sono di nuovo invisibile grazie 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 scoprita cosa succesi ragella rinico sul poso vabbè 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 non so se si sono tutti accorti di me ma non spero e non credo infatti no non avevo notato che era pericolo era pericolo di vita controllo rx43 non risponde andate a cercarmi si signore vado io uomo a terra guai a vista roger ti dirigo in zona e' noia sti rinforzi mi sto iniziando a stancare che c'è calma rx43 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 rx45 rx CIA rx43 rx4 rx45 rx Berkeley rx waterfall che nasce La solita cosa Aio Oh no 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 Aspettate Devo continuare a saltare A saltellare come un coniglio Sono un coniglio Sono un mini coniglio Baby coniglio Pucci 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 L'altro tre Come pericolo Ah ok sicuro Mi sembrava strano Non c'era nessuno Che lo guardava Sono un secondo Finisco la missione Finisce la missione Tre ore Io stavo dicendo Secondo me no Sono riappersi Sopra le vostre teste Non l'avete manco notato Tanto non credo Ci vorrà ancora tanto Oh 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 Lui non li mette nella ragnatela, però. Assorbito tutta l'energia. Il laboratorio è fuori uso. L'uscita è di sopra. Hola! Finalmente! Non ne potevo più di stare qua. Volevo darmene via da un sacco. Ma non sono riuscito. Forse c'è qualcosa sul tuo computer. Eh? Oh! Ah no! Però ci sei andato. Sono persino più corrotti di quanto pensassi. Troveremo come denunciare la Roxxon. Senza seguire le ordine del underground. Non potrei mai farcela senza di te. Grazie, cosa? A dopo. Basta chiamarlo cosa. Oh! Finalmente! Ok, ci c'è ora che non andrei a team. Me ne mancano ancora quattro. Quindi, ragazzi, me ne mancano quattro. E poi potrò avere sto costume. Qui do due. Però se trova un altro... Ciao ragazzi! Andrea! Di!